La benzina bisogna far pulito, ma le sembra normale che si paghi l'aumento della benzina per la guerra d'Etiopia. Allora io qui lo prendo l'impegno, noi entro l'anno facciamo la guerra d'Etiopia. Questo mi sembra che è meno guerre per tutti, è il nuovo slogan. Entro l'anno noi andiamo a razionalizzare, che vuol dire a pulire, a decurtare, a eliminare tutte ste voci ridicole. Vuole togliere le cheese! E quante tasse si porta via lo Stato italiano su ogni litro di benzina? Più della metà della benzina che voi fate per andare a lavorare se ne va in accise, se ne va in tasse. Cosa faccio se vinco le elezioni? Non ho bacchette magiche, però faccio giustizia e taglio. Un'accisa si paga per la guerra in Etiopia. Non ho bacchette un altro! Cosa faccio! Cosa faccio! Grazie a tutti.